Io volevo evitare la spettacolarizzazione della malattia e il creare l'effetto wow, ma invece riuscire a raccontare qualche cosa di più intimo, che era poi dopo l'obiettivo. Buongiorno a tutti e a tutte, questo è L'Oppassanada. Io sono Marta. Io sono Giulia. E io sono Francesca. E questo è Coming Clean, le interviste che rendono top la salute mentale. Bentornati a tutti quanti. Non so pronunciare la schwa, quindi dico bentornati. Come si pronuncia la schwa, Giulia? Non si pronuncia, in genere si utilizza la U, quindi bentornati, bentornate, bentornato. Tu, tu, tu. Chi c'è dall'altra parte oggi? Raga, oggi abbiamo un ospite direttamente da Roma in questo momento. In cui non c'è il sole a Roma. No, non c'è il sole. Beh, mi consolo perché sono stanca di questo grigiume della Valpadana. E abbiamo, al di là dello schermo, Roberto Capucci. Ciao. Roberto è regista, sceneggiatore, produttore e soprattutto adesso possiamo ricondurlo a un film che è uscito recentissimamente. Che parla di salute mentale, tra le altre cose. Certo, perché di cosa vogliamo parlare? O è cultura pop o è salute mentale e quindi è molto comodo. Roberto, innanzitutto grazie per essere qui con noi. Roberto porta con sé le informazioni e la narrativa del film Mio fratello, mia sorella, uscito quest'anno. Ma noi qui ti faremo anche altre domande molto, molto simpatiche, sempre perché cultura pop e salute mentale. La prima domanda che vorrei farti è questa. Perché un film che abbraccia anche la tematica della salute mentale? Ma perché in realtà poi è un film che già dal titolo parla di relazioni e di una famiglia che si ricostruisce. Perché poi di base diciamo che la storia è nata proprio attraverso il racconto di una sorella che ha una situazione con un fratello che ha un disturbo mentale e diciamo è partita solo da un'ispirazione di storia vera e trovavo molto interessante questo modo anche molto diretto, a volte anche cinico di raccontare questo tipo di racconto e questa esigenza di essere poi alla fine compresa perché poi diciamo che lo stigma che c'è in generale rispetto alla malattia mentale è la cosa che poi è più alienante per chi invece è accanto a persone che hanno queste disabilità. E quindi diciamo che era nata lì ed è stata inserita in una storia di rapporti e di verdono e di ricostruzione di una famiglia poi alla fine. Ma domanda proprio su questo. Che tipo di training hai chiesto, se hai richiesto un tipo di training agli attori per impersonare alcuni di questi tratti? Guarda, assolutamente sì. Il film diciamo che ha avuto la collaborazione specifica del professor Giovanni Martinotti che è presidente dei giovani della SIP e poi anche il professor Di Gian Antonio che è proprio presidente SIP. Diciamo che la SIP, la Società Italiana Psiquiatria, che salutiamo, che ci ha supportato, ma soprattutto con Giovanni il rapporto è stato molto stretto per cui diciamo che mi ha dato la possibilità anche di, tra virgolette, passatemi il termine tecnico, di customizzare un paziente in base a quelle che erano le esigenze. Quindi quello che era importante, man mano che scrivevo insieme a Paola Mammini, già dalla fase di scrittura avevo un confronto continuo col professore per rendere il più possibile verosimile questo racconto. E anche in questo c'è stata poi questa scelta rispetto, per esempio, a altri film che trattano nello specifico la schizofrenia, dove normalmente si associa la schizofrenia all'allucinazione visiva, ma questo normalmente, come mi ha insegnato il professore, è difficilmente accostabile a delle tipologie di pazienti ad alto funzionamento, come era per esempio Sebastiano nel film. E quindi la sfida è stata di raccontare la voce, che poi è l'elemento che contraddistingue, che dà la sicurezza di una prognosi di schizofrenia. E' esattamente come si sarebbe visto dall'esterno, cioè come normalmente anche i parenti vivono questo tipo di situazione. E la sfida è stata con Cavallo, che ha avuto la possibilità, Francesco Cavallo, che è l'attore che fa Sebastiano, ma anche con gli altri, che mi sono portato a Chieti, abbiamo fatto tutto un training con i pazienti, abbiamo parlato con i parenti, è stata una fase molto intensa, molto forte, molto bella, ma necessaria poi per riuscire a restituire anche verità a quello che raccontavamo. Infatti penso che il problema spesso nel mondo di come viene raccontata la salute mentale è che si rischia di cadere spesso in stereotipi e quello che viene di rimando non è veritiero. Quindi complimenti per il lavoro che avete fatto. Grazie, grazie. Per noi era importante questa cosa qui, diciamo che ci abbiamo messo un... ma tutti, sto parlando da me, a Paola Mammini, che ha scritto il film, ma anche agli attori, volevamo proprio restituire non solo verità, ma anche dignità a tutto quello che ruota intorno, perché poi sì, è un termine antico, si parla di famiglia schizofrenogena, magari non è neanche più tanto attuale, però volevamo anche raccontare quelli che sono gli effetti, anche per i parenti più stretti, di quello che è il convivere con una patologia del genere. E in questo diciamo anche Claudia Pandolfi, ma Ludovica Martino pure hanno fatto anche un lavoro molto intenso di ricerca e di confronto con i parenti, di questi pazienti. E quindi mi è... insomma, era importante per noi avere questo riscontro, ecco. Avete avuto, hai avuto, dopo l'uscita del film, dei riscontri da qualcuno che è stato particolarmente... Tantissimi, guarda, guarda, veramente tanti, veramente tanti, e questo è stato forse la cosa più bella. E diciamo che non ho mai avuto nessun tipo di riscontro che, tra virgolette, potevo mettere in cantiere, perché poi ovviamente stiamo parlando... La schizofrenia è una malattia che è un contenitore enorme, che può contenere dentro delle tipologie totalmente diverse di pazienti. E quindi, sai, è facile, quando tu fai una trasposizione cinematografica, devi inevitabilmente poi settarti su un tipo di paziente che può essere credibile, ma non è ovviamente la realtà totale di tutti. E quindi, invece, il fatto che invece avessi ricevuto così tante testimonianze, soprattutto dai parenti, ovviamente, e ringraziandomi per la delicatezza e per la verità con quella quale affrontavamo il tema, è stato importante. Ma lo vedete, per esempio, anche dal lavoro che ha fatto Claudia Pandolfi, che ha voluto proprio presentarsi con tutto quello che era Tesla lì dentro, no? Quindi da andare sul set senza trucco, ad arrivare con le rigrescite, con tutte queste cose qua, perché voleva restituire verità a questo personaggio, secondo me lo ha fatto alla grande. Assolutamente, sì. Ed è bellissima anche la contrapposizione tra il vissuto di Tesla, quindi la mamma di questo Sebastiano, e la sua modalità accogliente, e invece la sorella che fatica ad accettare un certo tipo di diagnosi, ma ancora di più un certo tipo di trattamento familiare rispetto a questo ragazzo. Dall'altra parte, però, faccio la domanda un po' fastidiosa, hai trovato degli ostacoli nella realizzazione di questo tipo di film? Ma ostacoli dipende da che punto di vista. In realtà era un po' una sfida, diciamo, rispetto a questo. ostacoli veri nel momento tale in cui avevamo trovato forse l'alchimia giusta, con il cast giusto, e fatta quel lavoro di preparazione, poi in realtà veri ostacoli non ne abbiamo avuti. C'è stata all'inizio una difficoltà nel riuscire anche a far comprendere il tipo di film che volevo raccontare, il tipo di patologia che volevo raccontare, perché appunto spesso, diciamo che c'è, ma io compreso quando mi ci sono avvicinato all'inizio, avevo assolutamente molta meno conoscenza in materia rispetto adesso, ed è stato poi un viaggio, e diciamo che l'ostacolo è stato portare poi tutti quelli che sono stati poi parte integranti della storia, diciamo da Mediaset e Netflix che hanno, diciamo, sposato il progetto, ma alla casa di produzione, agli attori, insomma, a tutti, man mano a entrare a capire cose che normalmente magari non si conoscono, e un po' è stata anche quella poi la missione, riuscire a raccontare qualche cosa che possa poi dopo dare la possibilità di saperne di più, di capire qual è la situazione di tante famiglie che magari, diciamo, si trovano a volte sole nell'affrontare questo tipo di avventure. Ecco, ti interrompo Roberto, perché effettivamente hai tirato fuori l'ultima domanda che avremmo voluto farti, ovvero, che cosa, com'è la situazione oggi nel mondo cinematografico, in ciò che i film raccontano, rispetto magari a qualche anno fa, riguardo la salute mentale, perché quello che è evidente è che molto, come tutte le cose nella vita, passi dalla narrativa a livello di società che si fa di certe cose, fenomeni, fatti, vissuti, eccetera. Credi che ci sia una sensibilità diversa? No? È cambiato qualcosa? Come la vedi dal tuo osservatorio? Ma il cinema è un'arte comunicativa, quindi è ovvio che ha in sé questo, soprattutto quando si vanno a toccare determinate corde, ha anche un compito, diciamo, di riuscire a toccare le sensibilità e far vedere delle realtà diverse. E questo è importante. Diciamo che negli ultimi anni, non solo il cinema, ma proprio uno degli effetti della globalizzazione è la capacità anche di riuscire a raccontare delle storie che magari prima non erano fruibili facilmente. E quindi in questo sicuramente è importante. Penso semplicemente, ecco, mi riattacco al lavoro che fa il professor Martinotti, che è uno psichiatra giovane, ma già molto importante, che per esempio è su TikTok e parla ai giovani e utilizza i media con una funzione anche educativa, nel far arrivare una serie di messaggi che sono importanti. E ha un seguito incredibile rispetto poi alla funzione sociale che ha. In questo ovviamente ovviamente credo che il cinema come tutti i media, ma diciamo anche avendo un pochino di aspetto artistico più preponderante, abbia un ruolo importante. Ecco, ovviamente era anche una delle cose che vi dicevo, cioè io volevo evitare la spettacolarizzazione della malattia e il creare diciamo l'effetto l'effetto wow, ma invece riuscire a raccontare qualche cosa di più intimo. Questo è stato un po' e questo diciamo che era poi dopo l'obiettivo, poi non sta a me dire se è raggiunto o meno, ovviamente. Va bene, io ti ringrazio tantissimo Roberto, qui con Marta, con Francesca, No Passa Nada, Coming Clean, cerchiamo con te di ridurre lo stigma sulla salute mentale per poterla rendere più pop e quindi alla portata di tutti. Più fruibile. Grazie mille, sai. Grazie. Ciao. Ciao. Coming Clean è un format No Passa Nada, prodotto da No Passa Nada, realizzato con il supporto non condizionato di Lundbeck e grazie all'editor Sandro Ghini. Ascoltaci sulla tua piattaforma preferita e seguici su Facebook, LinkedIn e Instagram annopassanada underscore podcast. Ti aspettiamo.